buongiorno a tutti oggi mi trovo sulle rive del lago ceresio a bissone comune di circa 900 abitanti a cinque chilometri dalla città di lugano bissone è un posto tranquillo delizioso con stretti vicoli ciottoli e balconi floreali insomma un posto dove poter vivere in totale serenità con la propria famiglia e con una vista mozzafiato sul lago di lugano se sei un amante di barche magari ne possiedi una bissone sicuramente è il luogo ideale oltre a questo questo villaggio gode anche di tutte le comodità infatti collegamenti con negozi banche farmacie scuole elementari e scuole medie sono raggiungibili facilmente la stazione di melide dista due minuti di auto così come l'autostrada a pochi minuti c'è l'imbarazzo della scelta in quale lido andare lido di bissone lido di melide e lido di maroggia e tanti altri in questo cantiere sorgerà la residenza mimosa il progetto di edificazione prevede l'esecuzione di una palazzina di 7 appartamenti in uno stabile su tre piani e un'autorimessa interrata con 15 posti auto singoli più 4 posti barca gli appartamenti disponibili sono al piano terra due quattro locali e mezzo di 179 metri quadri al primo piano un quattro locali e mezzo di 179 metri quadri al secondo piano due quattro locali e mezzo di 179 metri quadri e al terzo piano un attico di sei locali di 341 metri quadri un punto di forza di questa residenza è sicuramente l'ampiezza degli appartamenti ma soprattutto il posto barca direttamente sotto casa se possiedi una barca molte volte diventa scomodo dover prendere la macchina e andare fino al lido più vicino per prendere la propria barca qui potrai averla direttamente sotto casa questa è una comodità più unica che rara per maggiori informazioni chiama velocemente questo numero 091 921 24 28 e chiedi della residenza mimosa finché è disponibile sarò felice di presentarti l'occasione di acquistare l'appartamento perfetto in un posto unico e magico chiamaci ancora grazie e diverti iscriviti al canale iscriviti al canale Grazie a tutti.